Dal di dentro di Lina Mollica Quando tutti erano usciti, Don Andrea si era andata a cambiare. Poi aveva fatto il giro della chiesa per controllare che non ci fosse rimasto qualche devoto in un angolo a pregare e che rischiasse di rimanere chiuso dentro. Era già successo. Vicino alla porta c'era un uomo. Era ben vestito, pulito, di statura non altissima ma dal portamento fiero, probabilmente sulla cinquantina, viso sano, sguardo sereno. Posso confessarmi? Voce gentile. Certo, mi segua. Erano andate al primo confessionale. L'uomo aveva atteso che il sacerdote si sedesse al suo posto per inginocchiarsi. Padre Andrea aveva fatto il segno della croce e aveva sentito l'estraneo trattenere il fiato. Allora, cosa vuoi dire al Signore? Si tratta di una cosa un pochino difficile e lunga. Io non ho fretta. Racconta pure, ti ascolto. Ma si sarebbe pentito di quella disponibilità regalata con amore. Sono un uomo buono, paziente, gentile. Ho moglie e due figli piccoli. Lavoro come impiegato in banca, non ho mai commesso reati rispetto alla legge e la mia famiglia. Solo che da un pochino di tempo mi sento, come potrei dire, infelice. Non è cambiato niente nella mia vita. Ho le stesse soddisfazioni di prima, sia in casa che al lavoro. Tutto va bene, non ho malattie o depressione. Mi sono fatto controllare. Ma sto male dentro. Sento un buio che mi copre e mi toglie il fiato. Non ho più gioia. Ho solo desideri cattivi. Sento nelle mani la voglia di picchiare, nella gola la voglia di urlare. Cerco di litigare con tutti, voglio lo scontro. Ho provato a calmarmi anche coi farmaci, ma il desiderio di far male resta. Ieri sera non riuscivo a dormire. Mi sono girato verso mia moglie. Ho avuto l'istinto di metterle le mani al collo. Sono scappato dal letto per paura di farle male e passando davanti alla camera dei bambini ho visto l'immagine di me che li uccideva bastonate. Sono andato a dormire in macchina, ma non ho chiuso occhio per paura di fare qualcosa di inconscio. Padre, io dopo di qui vado dal medico e mi faccio prescrivere sedativi forti. Ma non è malattia mentale. Io sento dentro qualcosa che mi sta mangiando. padre, esiste la possessione maligna. Padre, io adesso vorrei alzarmi e farle del male. Mi sto trattenendo. Ma dentro è un ordine imperioso. Padre, io ho paura. E più ho paura, più sento montare la rabbia dentro di me. Ma che cosa mi sta succedendo? Perché se è solo pazzia mi faccio rinchiudere. me lo dica. Lo faccio. Ma ho la certezza che non sia pazzia. Mi aiuti. La prego. L'uomo si era messo a piangere. Padre Andrea lo aveva ascoltato con sempre maggiore apprensione, sentendo la voce dell'uomo farsi più fragile ad ogni parola e percependo il suo tremore oltre la vecchia rete in legno. Ma lui era un prete, fatto per dare conforto. Aveva parlato con dolcezza. Ascoltami. Io non ti conosco, ma il Signore sa chi sei. Lui non manda croci troppo pesanti per essere portate, ma bisogna capire come affrontare il problema. Mi hai detto che hai già fatto le visite mediche e stai bene, ma forse sei andato oltre i tuoi limiti e sei stanco senza saperlo. E questa cosa ti fa stare male, ti rende arrabbiato e nervoso. Alla tua famiglia non hai fatto male, anche se lo hai desiderato. Quindi non sei cattivo, sei solo confuso. O forse qualcosa che desideravi non lo hai potuto avere perché sei una persona responsabile e la rinuncia ti ha fatto provare il risentimento verso chi ami. Però oggi andrai dal dottore che ti calmerà e ti farà stare sereno a livello fisico. Per la tua anima invece c'è Dio. Ma che belle parole. Padre Andrea era scattato sulla sedia. La voce dell'uomo era cambiata, dal tono non era solo calmo, ma gelido, irriverente. Quindi ora vado dal medico, mi faccio scrivere che sono pazzo e pericoloso e mi faccio dare le medicine. Poi torno a casa e se entro domani e non uccido nessuno torno qui a farmi dire quanto io sia stato bravo. Te la sei cavata con poco, prete. Mi aspettavo qualche idea più originale e invece mi dici solo di fare il bravo. Ma cosa ti sta succedendo, figliolo? Ma perché mi parli così? L'uomo si era messo a ridere. E se invece avesse avuto ragione lui a parlarti di possessione? Sei uno di quei preti che non crede nel diavolo? Non ti permettere di fare quel nome al cospetto di Dio. Se mi stai prendendo in giro, ricordati che stai facendo lo stupido agli occhi di Dio. Io sono solo un tramite, un mezzo della sua volontà. Smettila immediatamente. Padre Andrea aveva cercato di tenere un tono autorevole, ma si era innegabilmente spaventato. E non per i discorsi, ma per la voce di quella persona. Non ne avrebbe saputo spiegare il perché, ma c'era davvero qualcosa di inquietante. O forse era di fronte ad un vero caso di schizofrenia. Doveva forse chiamare qualcuno, medici o forse dell'ordine. In fondo aveva di fronte qualcuno che aveva manifestato intenzioni omicide. Ascoltami, ti prego, io non voglio farti del male. Adesso parliamo e troviamo una soluzione e tutto andrà bene. Soluzione a cosa? Non ti ho ancora fatto del male. Non ho ancora fatto del male a nessuno. Ti prego, smettila di scherzare. Non c'è da fare male a nessuno. Perché non mi dici che cosa pensi ti potrebbe fare stare meglio? Dammi modo di aiutarti. L'uomo si era avvicinato alla grata e aveva sussurrato. E se per stare meglio dovessi farti del male? Tanto male? Non posso impedirti di commettere un atto depravato. Anche se siamo nella casa del Signore, c'è il libero arbitrio. Vuoi usare la violenza? Se mi prometti di far male solo a me e che lasci stare i tuoi figli e tua moglie, accomodati. Guarda se davvero ti farà stare meglio e farmi male. Io non intendo fartene. Non è da eroi colpire chi non si difende, ma se sei veramente deciso, anche commettere un atto di codardia come picchiare una persona inerme sarà per te un vanto. Agli occhi di Dio sarai un peccatore della peggior specie, ma se vuoi così io non posso impedirtelo. Padre, padre mi aiuti, lo mandi via, lo mandi via da me. Di nuovo la voce incrinata. Era scomparsa la strafottenza. Schizofrenia, sicuramente. Doveva chiedere aiuto prima che la parte malvagia riprendesse il sopravvento. Padre Andrea aveva tirato fuori dalla tasca il suo telefono e composto un numero di emergenza. Ma che cosa avrebbe detto? Che un uomo usava due toni diversi di voce e che gli aveva confessato qualcosa che forse aveva intenzione di fare? Che era spaventato a fare quello che il suo abito talare gli imponeva di fare? Aveva spento il telefono. Il respiro dell'uomo oltre la grata era tornato tranquillo. Ora ti metti a violare il segreto della confessione chiedendo aiuto alla polizia. E se io fossi una prova a cui il tuo Dio ti sta sottoponendo? Ma tu lo sai che fatica che ci vuole ad essere sempre una brava persona? Ma tu che non devi rendere conto a nessuno se non a Dio che però è lontano. Lo sai cosa voglia dire essere sempre all'altezza di aspettative infinite anche quando non si ha più la forza per respirare? È facile predicare l'essere buoni, gentili quando tutti ti trattano male, quando tua moglie smette di chiederti come tu stia e come sia andata la giornata, magari criticandoti perché sei sempre perso nel lavoro e poi arrabbiandosi se non lavori abbastanza da farle avere scelta di tutto. Tu non sai cosa vuol dire avere i figli che ti abbracciano se giochi con loro e poi basta perché esisti se solo possono usarti. Sai come sia umiliante vedere altri fare carriera con idee stupide e misere perché sono capace di dire sempre sì? Tu non sai come sia frustrante dover sempre essere brave persone. A te non capita di gareggiare mai con nessuno, non hai nessuno che si aspetti qualcosa di tangibile. A te si chiede solo comprensione e assoluzione. Non vivi. Giudichi la vita altrui ma non vivi. Solo per questo dovrei massacrarti. padre Andrea ascoltava e una parte di lui capiva che oltre ai problemi mentali ci fosse una stanchezza infinita che aveva coperto quell'uomo fino a farlo perdere. Hai ragione, hai ragione. Le mie sono parole dettate da un'esperienza di vita altrui. Però quando i tuoi figli ti amano sei felice? Quando tua moglie si accorge di te? Stai bene? Quando sul lavoro dimostri chi sei ti senti a posto? Perché se sì la risposta come puoi pensare di anullare tutto in modo violento? Come se potesse darti un qualcosa di più che non ci sarà? Vuoi perderti? Vuoi scoprire l'abisso della violenza? Vuoi rischiare la galera, il giudizio divino? Io non posso obbligarti a niente ma posso indicarti la strada di ogni tua scelta perché Dio mi ha dato l'opportunità di guidare i suoi figli. Vai dal medico, fatti aiutare e torna, torna ogni giorno da me anche per minacciarmi o per farmi male, ma torna qui. Dammi il permesso di aiutarti facendoti vedere quanto sia grande il Signore con tutti. Padre, io forse ho già fatto qualcosa di brutto. E cosa hai fatto? A chi? Dimmi, dimmi dove sia che andiamo ad aiutarlo, ti prego. Di nuovo la voce cattiva. Ora hai paura, vero? E ora che fai? Sei arrivato dopo di me. Lui viene a parlarti di desideri cattivi perché ha paura di cedervi, ma forse glielo ho già fatti compire io. Magari ha ucciso davvero moglie o ha massacrato i suoi bambini e serve comunque colpa tua che parli, 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 ma non puoi gestire gli uomini. Sai quante persone odiano gli altri? Sai quanti finti gentili si trovano seduti tra i tuoi banchi e tu non puoi farci niente. Parli a vanvera vuoto ogni giorno e loro non ti ascoltano. Ma che cosa vuoi da me? Aiuto? Perdono? Il perdono di Dio? Sfogarti sull'unico individuo che sicuramente ti ascolta perché il mio dovero è ascoltare? Sei venuto qui perché hai paura di te o per prendermi in giro, per farmi la predica perché qualche volta l'ho fatta io a te e non sei d'accordo? Io sono qui per te. Se hai fatto davvero male a qualcuno andiamo da quella persona e diamole una mano. Se hai intenzione di fare del male troviamo un modo di evitarlo. Se sei qui per parlare dei tuoi demoni io ascolto. Se sei qui per insultarmi e minacciarmi io ascolto. Se vuoi la soluzione mi dici la verità e Dio saprà perdonarti. Ma devi dirmi perché sei qui. L'uomo aveva fatto un respiro profondo. Tu non sai cosa voglia dire avere chi si appoggia a te. La voce era di nuovo sconvolta ma anche rassegnata. Tu puoi promettere aiuto ma se poi fallisci chi si può arrabbiare con te? Hai il cibo assicurato. Devi essere un esempio nei gesti ma nei pensieri nessuna moglie ti legge. Nessun figlio ti tratta male se non lo capisci. Nessuno può omigliarti per come svolge il tuo lavoro. Sei una persona libera magari legato a Dio ma libero. Ti alzi la mattina con un futuro possibile davanti. Io non ho più futuro davanti a me. Ho solo doveri 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 per il resto della mia esistenza e non c'è un traguardo. Padre Adria aveva preso un respiro. Aveva intravisto la luce in fondo a quel tunnel. Oh sì sì che c'è un traguardo anzi più di uno. Hai la possibilità di vedere felici moglie e figli. Hai l'occasione di vedere crescere delle persone che hai fatto tu che dipendono da te e si affidano a te per i quali tu sei tutto. E poi c'è la ricompensa divina per la tua vita. C'è un dopo che sarà fatto di serenità regalata dal tuo essere una brava persona. Adesso dimmi come posso aiutarti. Dammi modo di poterti stare vicino. Affrontiamo insieme tutto. Io sono qui a dimostrarti che Dio c'è ed è con te. E cosa vuoi fare? Vai a dire a mia moglie di avere pazienza se non sono l'uomo che vuole? Le vai a dire che deve accettare chi non la sa soddisfare né nella vita né nel letto? Vai a dire ai miei figli che non è colpa mia se non gli posso dare tutto quello che vogliono perché non sono capace di fare carriera. Che mi dispiace se alzo la voce e le mani quando perdo la pazienza e che non sono cattivo ma solo stanco. Cosa vuoi fare? Darmi soldi, darmi serenità. Ma cosa vuoi fare per me? Che cosa puoi fare per me? Sai che quando alzo le mani mi sento meglio? Sai che se rubo sul posto di lavoro mi sento finalmente furbo come tutti quelli che rubano e vivono felici. Non serve a niente essere brave persone. Quindi hai rubato sul lavoro e picchiato la tua famiglia? Sì, sì, ho rubato. Io ho fatto del male. Padre Andrea si stava agitando. La tua famiglia sta bene adesso? No! Doveva chiamare la polizia. Adesso ti prego ascoltami. Cercava di tenere un tono conciliante ma anche di fare la telefonata. Adesso proviamo a spostarci sulle panche. Ci mettiamo l'uno accanto all'altro e preghiamo per te. Insieme. L'uomo si era alzato con fatica. Doveva avere le gambe atrofizzate. Come un automa si era diretto alle panche e si era inginocchiato. Padre Andrea non poteva abbandonarlo adesso. Sono qui con te. Ti ricordi qualche preghiera? L'uomo continuava a singhiozzare. Forse il padre nostro. Va benissimo, diciamola insieme. Si erano messi a ricitare a voce bassa insieme. Padre Andrea si era sentito bambino. L'incertezza di ogni parola come le prime volte che ripeteva la preghiera e l'ansia di sbagliare per paura di un castigo. Ma era tanto che non la diceva con quel trasporto. Poi aveva aspettato che l'uomo smettesse di piangere. Adesso andiamo insieme a casa tua, dalla tua famiglia e aggiusto tutto io. Va bene? Non ho toccato la mia famiglia. Non ho fatto niente. L'ho solo desiderato tantissimo. Ma non li ho toccati. Vado dal medico e mi faccio dire cosa fare. Va bene? Vengo con te. Così ti aiuto a spiegarti. Va bene? Padre Andrea non era tipo da contatto fisico ma aveva messo una mano sulla spalla dell'uomo e non intendeva spostarla. Lo avrebbe accompagnato ovunque, non l'avrebbe lasciato solo. Si erano alzati insieme. L'uomo che si era inginocchiato a confessarsi era un uomo sano di 50 anni. Quello che stava uscendo dalla chiesa con lui sembrava un vecchio malato. Avevano camminato l'uno accanto all'altro per quasi un'ora. Poi davanti una porta vetri su cui era scritto studio medico l'uomo si era voltato verso il sacerdote. Entro da solo. Devo affrontare da solo questo passo. Io non so come dire grazie. Non so come scusarmi. Padre Andrea gli aveva sorriso. Io sono qui per te e domani ti aspetto. Vieni anche presto. Prima di andare a lavorare io apro all'alba. Promettimelo. Le porte della chiesa saranno aperte. L'uomo aveva ricambiato il sorriso e fatto un cenno con il capo. Poi era entrato. Quella sera padre Andrea era veramente stanco. Non erano state le sue parole a salvare quell'uomo. Non era stata la fede. Quell'uomo aveva fatto tutto da sé. Discesa all'inferno e risalita. Forse non era neanche innocente. Forse il giorno dopo avrebbe letto sul giornale di qualche delitto e ferrato. Forse si sarebbe trattato di tempo ma poi avrebbe compiuto qualche azione orribile. Forse era entrato dal medico senza poi farsi visitare, senza farsi dare una cura. Forse. Forse doveva aspettarlo fuori. Ma gli era parso di essere inopportuno, invadente e voleva dimostrare la sua fiducia aspettando il giorno dopo la sua venuta. Ma forse aveva sbagliato. Forse l'uomo aveva aggredito il medico e altri pazienti. La verità era che lui era letteralmente scappato via. Stare vicino a quella persona l'aveva fatto sentire inutile, sbagliato, vulnerabile, mortale. La vita eterna non gli sembrava un'alternativa accettabile. Non se l'era sentita di mettersi a rischio. Che servo di Dio era se non riusciva a sentirsi comunque al sicuro. E tra tutte le cose che quell'uomo gli aveva detto, quante erano vere? Nessuno a cui rendere conto nell'immediato. Una solitudine che a volte pesava sicuramente, ma che lo preservava da tantissimi dolori. Lui viveva di riflessi, di emozioni altrui. Viveva dell'amore di Dio che dispensava a piene mani, ma che lui da solo non aveva mai avuto motivo di regalare. Era solo un trante ed era un codardo. Come faceva a definirsi uomo, ancor prima che prete? Anzi, padre, perché era quello il suo vero mestiere, fare le veci del padre celeste. Non era capace. Aveva dubitato, aveva avuto paura e aveva capito di non valere niente. Come poteva reggere il peso delle disfatte altrui se non sapeva accettare le sue? Quanta ipocrisia, magari involontaria, nelle sue omelie, dove doveva aver profuso in quegli anni, era andato a dormire sentendosi solo, ma sperando che il sole, che Dio, gli desse la forza per andare avanti. Per la strada, l'uomo che lo aveva messo in crisi passeggiava da solo sotto la luce arancione dei lampioni. Era stato un pomeriggio intenso, ma aveva di nuovo vinto lui. Aveva di nuovo messo alla prova un prete, che non era riuscito a restare sereno. Wow! Ed incomunico che mancano tre righe alla fine del racconto. Non è finito tutto qui, per cui, attenzione, perché le sorprese non sono finite. Allora, intanto andiamo a leggere qualche commento che vedo. Anzi, prima bevo un po' d'acqua, va. Wow! Sembra di essere a teatro. Ecco, questa è la cosa più bella che mi si poteva dire. Bravissima Lucia, questa lettura è molto affascinante, bravissima l'autrice. Sì, ragazzi, scrive in un modo eccezionale, eccezionale. Quanto sei brava Lucia e quanto brava l'autrice. Sono incollata al racconto. Francesco Stagliano, ciao. La mia sincera ammirazione, Alina Mollic, esemplare, Lucia Caponetto. Molto gentile, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ti sono vicinissima, perché qua si parlava dei ciclisti. Vediamo, vediamo. Lina Mollica scrive, grazie. Bellissima interpretazione. Ciao Lucia, ciao Mariangela. Che racconto coinvolgente ho sperato che tu non interrompessi la lettura. Complimenti all'autrice, complimenti. Lucia l'hai reso molto vivo. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Oh, grazie, interpretazione magistrale. Grazie Alessandro. Qui tornano compagni di scuola del passato. Francesco Brunetti sta guardando, ti sei perso il primo. Franci, ti tocca il secondo. Allora, visto che questa serata sarà dedicata più alla lettura che alle recensioni, anche perché devo dire che state recensendo in modo magistrale anche voi, però ci tenevo a dire una cosa, perché avete usato, l'avete detto voi, e effettivamente l'ho scritto anch'io nel mio super quadernino, che peraltro, dovete sapere, che ho comprato proprio con l'autrice. Quando ci siamo incontrate, ti ricordi Lina che ci siamo fatti un salto da Tiger e ho comprato un sacco di sciocchezze? E così ho comprato questo meraviglioso quadernino. Complimenti all'autrice e alla sua interpretazione, grazie. Grazie mille. Allora, ho le prove adesso di quello che ho scritto, perché è vero che i racconti ti buttano con forza dentro le parole e dentro le righe, ti rubano l'attenzione verso altro. Ve lo leggo questo concetto che ho scritto perché vorrei che fosse esattamente reso nel modo corretto. Cioè, i racconti ti rapiscono, ne diventi schiavo, esattamente come succede con un romanzo, con la differenza però, che un romanzo ti porta a conoscere, via via che scorrono le pagine, ti porta a conoscere i personaggi, no? Quindi impari ad amarli o a odiarli, evidentemente, pagina dopo pagina, in modo lento. Invece i racconti, i racconti sono un'affolgorazione. Passi da uno all'altro con bramosia, pensando chissà che cosa succederà in questo e poi nell'altro e non ti schiodi, ho le prove di quello che dico perché così mi è successo, fino a che non li hai finiti tutti e poi come una droga ne vuoi ancora. Quindi, i romanzi sono meravigliosi, ma non sottovalutiamo i racconti, perché quando a scriverli poi sono autrici come Lina Mollica, che davvero ti sa mordere proprio il cuore, perché ti viene proprio da dire e adesso cosa succederà, ma voi non avete idea di come finirà questo racconto. Compratelo dal di dentro e leggetelo perché vi lascerà di stucco. A me ha lasciato talmente di stucco che ho deciso di non leggervelo. Ma passiamo a una seconda lettura. Qui abbiamo avuto un avvicinamento rispetto alla possessione, rispetto a un esorcismo, rispetto a una persona che evidentemente ha una doppia personalità o che addirittura viene in un certo qual modo aggredito da se stesso, diciamo con l'altro io, non voglio chiamarlo diavolo, chiamiamolo l'altro io, ma in questo caso poteva tranquillamente essere Satana. Tant'è vero che il prete dice guai a nominare il nome in vano, quantomeno nella chiesa, quindi sicuramente qui si parla. Ma in questi racconti ci sono, come dicevo, momenti di violenza nell'intenzione e momenti di violenza vera. Questo racconto che io sto per leggervi ha una prima pagina veramente violenta e probabilmente vi porterà a eventi o a serie tv, purtroppo a eventi successi davvero, ma parliamo di Netflix, parliamo di serie tv, è veramente veramente violento. Ma come vi dicevo per Max Haube, poi ci sono i punti di vista, no? E quindi non dico che arrivi a essere d'accordo con uno o con l'altro, probabilmente con nessuno dei due e poi capirete leggendo a chi mi riferirò e a chi mi riferisco, ma ci sono delle situazioni che se tu vedi da una sola angolatura puoi farti tutte le giustificazioni del caso. Poi, caspita, ti capita di guardare dall'altra parte e si mescola tutto. Andiamo a leggere il secondo racconto. Tramonto Non la smetteva di rimettersi in piedi. Nonostante tutte le botte, quella bastarda continuava a rialzarsi. E gliene aveva date. L'era assaltata addosso con tutta la forza possibile. L'aveva scaraventata a terra, presa la testa tra le mani e sbattuta ripetutamente sul pavimento. Aveva perso i sensi. Eppure poi si era svegliata e si era alzata la prima volta. Le aveva tirato un pugno in faccia e di nuovo era andata a terra. Le aveva sferrato un calcio al viso, facendola finire contro il muro. E si era alzata per la seconda volta. Le aveva afferrato le spalle e l'aveva sbattuta sul muro fino a che era comparsa la macchia di sangue in corrispondenza di dove picchiava la testa sull'intonaco. Era svenuta e caduta a peso morto. Pensava di averla uccisa. E invece no. Lei si era rialzata. Barcollante, sanguinante, vistosamente incosciente, ma di nuovo in piedi. Doveva chiudere quella situazione. Si era avvicinata alla sedia di legno accanto alla scrivania. L'aveva sollevata sopra la testa. E gliel'aveva scagliata addosso con tanta forza da romperla. Vediamo se ti rialzi ancora. La casa era un disastro. I segni del loro scontro erano ovunque. Il cadavere e il sangue solo nello studio. Ma tutto il piano terra era un'evidente zona di guerra. Poteva fare due cose. Ordinare e poi chiamare i carabinieri per costituirsi. O chiamare senza ordinare. Tanto a nessuno di loro sarebbe importato di entrare in una casa pulita. Però erano in campagna. Nessuno poteva aver sentito alcunché. Non voleva sottrarsi al suo destino. Voleva andare in galera per aver modo di spiegare perché fosse stata costretta ad ucciderla. Ma voleva riprendere il controllo di se stessa per non sembrare malata di testa o in preda raptus. L'aveva uccisa con intenzione. E aveva provato gusto a scaraventarla a destra e a sinistra per farle male. Non voleva le attribuissero attenuanti per gesto folle. Voleva sapessero solo un perché. e la condannassero per assenza di alternativa. Visto che la legge deve pulire chi commette reato tangibile, ma non chi fa danni morali. Quindi poteva prendersi il tempo per pulire e sistemare casa. E dopo chiamare le autorità per confessare l'omicidio di quella troia di sua madre. Svegliarsi era diventato un incubo. Era diventato ancora più orribile. La vecchiaia che le impediva di fare tutto da sola, i dolori alle ossa che derivavano dalla sua abitudine di sollevare pesi enormi, il fiatone che sopraggiungeva dopo la prima parola che pronunciava. E poi quell'ingombrante, stupida, lenta e dai piedi striscianti di sua figlia. Appena suonava la sveglia, sentiva i suoi passi avvicinarsi, come se stesse trasportando un peso sulla schiena e non riuscisse a tirare su le gambe per camminare. Apriva la sua porta senza bussare e con voce allegra le diceva «Bongiorno!» con una felicità immotivata, cretina, ma buongiorno di che? Un'altra giornata a parlare di stupidaggini, a vedere gli stessi identici episodi degli stessi identici telefilm, a pulire in modo maniacale tutto, anche se già tutto brillava. E poi una serie di ondita, di commenti ignoranti alle notizie del telegiornale. Proprio una buona giornata. Aveva lasciato la vita di città per salvare sua figlia da un padre violento e per vivere serenamente con lei. Si era fatta in quattro per trovare lavoro nell'ufficio prostale del paese, trasportando corrispondenza e pacchi per tutta la provincia. Così da assicurare uno stipendio buono e una pensione accettabile anche a sua figlia. Quell'essere strisciante che non era stata capace di imparare un mestiere o di prendere un titolo di studio diverso dalla licenza di scuola media e che le diceva in ogni sacrosanto momento della giornata che l'amava e le voleva bene. Asfissiante. nauseante si era alzata da sola perché non sopportava di essere abbracciata da sua figlia che sudava, sudava sempre tantissimo e si faceva il bagno solo la sera, tutte le sere e poi sudava di notte. si era vestita da sola e si era diretta verso la cucina con la strisciante sempre alle costole come un cane affamato o un cancro inguaribile. Avrebbe dovuto lasciarla con suo padre scappare oppure buttarla fuori di cave ai 18 anni. Maggiorenne è scema ma almeno poteva andarsene e invece era rimasta fedela al suo ruolo di madre. Madre di quella cosa informe, malata di pulito e dalla sudorazione esagerata. si erano sedute al tavolo per fare colazione insieme come sempre aveva trovato tutto apparecchiato tutto pronto con quei maledetti pezzi di scottex posati sotto ogni cosa per non macchiare la tovaglia più lo straccio vicino al tavolo casomai fosse caduto qualche briciolo goccia a terra. Era impossibile non sporcare e sua figlia le puliva attorno le spostava i piatti per eliminare le tracce di tutto sempre aveva preso un biscotto coperto con un niente di marmellata le si era sbriciolato in mano. Una parte era finita sulla tovaglia ovviamente riuscendo a schivare tutti i quadrati di carta e una parte a terra. Sua figlia aveva fatto un urletto di spavento grottesca una voce così acuta alla sua età è grottesca poi si era lanciata come per spegnere un incendio si era messa a quattro zampe a pulire per terra prima con lo straccio poi aveva spruzzato la candeggina a spray ottimo profumo per fare colazione è passato nuovamente lo straccio poi si era tirata su e aveva tolto dal tavolo tutto anche la tazza di sua madre pulito da ogni briciola la tovaglia e con il solito sorriso che voleva essere amorevole ma invece era da perfetta deficiente aveva rimesso tutto a posto ma come si poteva vivere con una persona simile vicino in un moto di rabbia aveva sollevato la tazza del caffellate con troppa furia il contenuto era debordato macchiando tutto sua figlia era di nuova scattata in piedi brutta demente e siediti l'aveva guardata con il disprezzo di sempre ma questa volta sua figlia la scema strisciante l'aveva compreso invece di sedersi si era scagliata contro di lei per la prima volta in quasi 50 anni sua figlia si era scagliata contro di lei sua madre era sempre stata tutta la sua vita confidente, amica e compagna in ogni cosa per quasi 35 anni avevano condiviso tutto solo loro due a lei non pesava sacrificarsi per la sua mamma aveva anche evitato di andare bene a scuola per non lasciarla sola per andare all'università per dimostrarle tutto il suo affetto teneva pulito ogni giorno le andava dietro quando la vedeva lavorare in giardino così che non si stancasse a dover raccogliere foglie vecchie o l'erbacce le andava dietro quando si chiudeva in bagno aspettando dietro la porta che avesse finito in modo poi da pulire tutto per bene per vivere soprattutto nel bagno in un ambiente asettico lei si sedeva accanto quando si metteva a leggere sapeva infatti che sua madre apriva i libri solo per darle modo di pensare a se stessa perché voleva lasciare a sua figlia tempo libero ma non ce n'era bisogno quindi lei si metteva a parlarle ogni volta che sua mamma iniziava a leggere lei chiedeva cosa volesse per pranzo a colazione cosa potesse desiderare per cena mentre erano a pranzo in modo da essere efficiente e pronta sceglieva i programmi televisivi più adatti per una signora di una certa età così che sua madre non si potesse impressionare alla fine riguardavano sempre le repliche di film buoni dove tutti erano brave persone e nessuno mai osava dire parolacce era veramente una brava figlia o così pensava che la vedesse sua madre fino a quella mattina con l'andare avanti con l'età era stato più difficile accudirla i movimenti legati o gli immotivati scatti di nervi le facevano cadere tutto di mano era un po' come accudire un bambino era diventata meno incline al dialogo rispondendo con versi grugniti a tutti i commenti che lei faceva sulle notizie per coinvolgerla in una discussione alla fine lei parlava per ore e sua mamma ascoltava e basta lei puliva e sua mamma sporcava lei sorrideva e sua mamma teneva il muso le voleva bene era la sua vita ma non si accorgeva dei suoi sacrifici aveva rinunciato a vivere per stare accanto a sua madre si era immolata per la donna che le aveva donato la vita ma che non l'apprezzava come avrebbe meritato sapeva che sua madre l'amava di questo ne era sempre stata sicura se no se ne sarebbe andata di casa quando ancora poteva crearsi un'altra esistenza invece era lì per sua mamma e sua mamma era lì per lei fino a quella mattina quando quella donna che lei venerava aveva rovesciato il latte e l'aveva chiamata demente poi c'era stato il buio dal quale era riemersa a piano aveva ucciso sua madre ma casa era in ordine aveva abbandonato il corpo in una discarica ma protetto da animali e curiosi era pronta per chiamare i carabinieri la cosa che un pochino la spaventava era che in prigione avrebbe dovuto dividere la cella con altre persone che non sarebbero state attente alla pulizia come lei oppure non le avrebbero permesso nemmeno di pulire si sarebbero espresse in modo orribile l'avrebbero trattata male non era giusto in fondo aveva ucciso sua madre perché aveva capito che non le voleva bene l'aveva uccisa perché anche se aveva passato tutta la vita pensando a lei sua madre non l'amava e come si fa e come si può accettare che tua madre non ti ama anche la Bibbia diceva che bisognava amare i propri figli tutti sapevano che era un dovere amare i propri figli sua madre era quella cattiva ma sarebbe andata in prigione lei figlia devota e irreprensibile ma almeno avrebbe spiegato a tutti perché avesse dovuto uccidere sua mamma forse poteva aspettare a chiamare i carabinieri tanto in galera ci sarebbe andata lo stesso perché anticipare le cose appena avessero trovato il cadavere sarebbero arrivate a lei avrebbe confessato ma almeno qualche ora o forse qualche giorno lo avrebbe avuto solo per godersi il pulito di casa senza sua madre non avrebbe neanche dovuto igienizzare il bagno tante volte e avrebbe avuto più provviste e avrebbe potuto guardare anche film diversi tanto non c'era più nessuno di impressionabile accanto a lei sarebbero arrivati i carabinieri e l'avrebbero portata via ma sino ad allora poteva continuare a vivere vi pare? era da uccidere questa donna no? nel frattempo ho visto che arrivate Manuela Bignami Manuela Bignami era una attrice insieme a me della compagnia La Pinchicola sulle Vigne diretta da Graziella Martinoli e pensate un po' proprio con lei ma non te lo ricordi proprio con lei abbiamo fatto anche con lei delitti esemplari di Max Auba Palazzo Reale era una delle attrici che insieme a me a Federica a Luisa insomma insieme a tante altre persone avevamo fatto Lorenzo avevamo fatto questo spettacolo Vittorio avevamo fatto questo spettacolo meraviglioso quindi ciao Manu sono contenta che tu ci sia e spero che tu possa assistere un po' a questa follia di questa sera che questa autrice davvero scrive in un modo che ti porta via ti trascina via e io la ringrazio perché questa sera ho potuto interpretare un po' di più sapete che le letture spesso sono sempre un po' serie ora nell'audiolibro non ne parliamo io nelle mie serate riesco a ritagliarmi un po' di interpretazione un po' di gioia nel farlo perché mi mancano tantissimo gli spettacoli anche se ogni mattina la mattina degli spettacoli per me era un patimento e mi ripetevo ogni volta perché ma perché ma perché lo faccio invece caspita mi mancano da matti mamma mia scrive allora intanto che aspetto un po' di commenti anche rispetto grazie che fate i complimenti a me ma anche rispetto a Marco Sinesi il tutto reso molto affascinante da una lettura di interpretazione veramente impagabile ma grazie grazie Marco grazie mille Isa dice che finisce di seguirci indifferita Oscar ci guarda Marco grazie all'autrice veramente molto brava bravissima anche per la lettura che riesce a fare dell'animo umano nelle sue pieghe più recondite oscure che con questo invidiabile modo di comporre assumono contorni attraenti ma esattamente bravissimo ti mette anche un mi piace poi metti un mi piace dopo però devo dire che sì riesce davvero è asciutta non si perde in fronzoli e quindi arriva dritta al cuore allora come al solito è arrivato il momento in cui io chiedo che ore siano chi mi dice che ore sono per favore Lina scrive sei fantastica grazie Lina e adesso abbiamo la lettura soft quantomeno diciamo che non muore nessuno e nessuno pensa di uccidere nessuno quindi come vedete questo libro è pieno è pieno di cose e di differenze quindi io ero partita grazie Alessandro perfetti siamo perfetti perché poi io devo correre alla diretta di Morelini Editore perché presentano un libro che esce domani e quindi ho tutti ho tutti gli orari come dire no? precisi 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 allora vi leggo l'ultimo racconto così ci rilassiamo un po' e poi ci salutiamo favola una mattina il vento era arrivato prima si era fatto annunciare da una dolce brezza poi era sopraggiunto violento e giocoso ma non si era messo a giocare con tutti e due solo con lui facendolo volteggiare e ridere come mai prima lei lo aveva osservato colma di felicità per quell'opportunità che finalmente era capitata al suo compagno che era suo doppio suo opposto e sua vita si era seduta a osservarlo rideva con lui lo incitava a seguire ogni folata piano piano lui era divenuto parte del vento potendo far muovere le cose a suo piacere sentendosi finalmente grande e speciale come aveva sempre sognato all'inizio non aveva mai distolto lo sguardo da lei fiero di mostrarle come fosse bravo a gestire quella novità che in vano cercava di gestire lui poi però il vento lo aveva raccolto da terra lo aveva innalzato verso il cielo facendogli scoprire come tutto potesse essere piccolo lo aveva trascinato in foglie di inebrianti corse tra le foglie nelle onde del mare le aveva fatto comprendere la sua potenza piegando alberi e scacciando nuvole nere più della notte il vento gli correva sulla pelle nonostante i vestiti lo sentiva carezzargli il volto e raccontargli nelle orecchie ecchi lontani il vento lo teneva stretto facendolo sentire immenso e grandissimo lontano da qualsiasi cosa persino lei lei era rimasta ad osservarlo aveva capito prima di lui che il vento volesse strapparglielo ma confidava che il loro amore fosse decisamente più forte di tutte le lusinghe terrene aveva atteso che lui la cercasse per fargli capire quale rischio stessero correndo a stare così lontani ma lui era perso era perso in quella giostra di emozioni a cui lei era esclusa aveva cominciato a rincorrerlo lui volava lei camminava sulla terra che sembrava appesantire ogni suo passo lo aveva chiamato a gran voce aveva strillato la sua paura ma il vento aveva riempito i suoni attorno a lui per tenerlo tutto per sé alla fine lei era caduta stremata sull'orlo del burrone oltre il quale lui volteggiava felice era rimasta a fissarlo mentre le lacrime le inondavano l'anima lo aveva pregato con un fil di voce di tornare lui l'aveva sentita si era voltato era lontanissima ma lui la voleva con sé il vento aveva cercato di portarlo ancora più in alto per mostrargli orizzonti che mai nessuno aveva avuto modo di vedere per un attimo quelle luci sovrannaturali lo avevano accecato ma il bisogno di lei era stato più forte imperioso aveva ordinato al vento di ricondurlo al suolo sapeva che una volta toccato terra non si sarebbe mai più potuto rimettere a volare era arrivato a pochi centimetri da lei che non riusciva a credere di poterlo riavere accanto il vento aveva giocato l'ultima sua carta aveva aperto il cielo sino alle stelle il suo dono per lui se fosse stato capace di rinunciare a lei per un attimo lui aveva osservato i puntini luminosi con la stessa bramosia che ha un assetato per un poco di acqua lei che aveva già atteso le braccia per accoglierlo si era sentita morire non poteva mettersi in gara con il firmamento lui con uno sforzo che non pensava di riuscire a sostenere e con un dolore sordo nel cuore si era girato di nuovo verso di lei deciso a tornare mortale per darle vita aveva allungato la mano per prendere la sua appena aveva stretto tra le sue dita forti quelle piccole di lei l'aveva vista trasformarsi in sabbia che il vento aveva disperso in un attimo dal di dentro di Lina Mollica edizioni Eracle di Lina Mollica di Lina Mollica